Da oggi anche le signore dei 30 e 60 anni possono affrontare la passerella più ambita d'Italia, quella di Miss Reginetta Over, che sta coinvolgendo sempre di più donne di classe, educate e raffinate nei modi e nei gusti. L'entusiasmo è stato palpabile anche nella sesta selezione interprovinciale svoltasi a Milazzo e nell'accogliente Villa Cuciti. 15 bellissime signore hanno impreziosito l'evento con il loro abito elegante e casual e si sono fatte apprezzare anche nel momento dedicato alla moda mare. Donne impegnate nella vita, con il loro lavoro, i figli e nella conduzione della famiglia, che per una sera hanno sfuggiato tutta la propria classe sotto i continui flash dei fotografi e seguendo le direttive della coreografa Gabriella Bisignano, che per l'occasione gli ha dedicato la canzone Pensiero Stupendo. Tra gli ospiti anche la giovane cantante barcelonese Giada Cotugno e la scuola di ballo dance school Sicilia, reduce dalla vittoria ai campionati italiani. Sì, sì, grazie per l'invito a questa meravigliosa serata, anche in qualità di giudice. È un'enorme soddisfazione per noi e per il nostro territorio aver portato questi grandi risultati qui, proprio appunto nella nostra amata provincia di Messina. Per la giuria non è stato semplice scegliere le miste da premiare, che sono state la 51enne Giancarla Mancuso di San Filippo del Mela, la 46enne Anna Maria Cariolo di Messina e la 47enne Liliana Lombardo di Siracusa. Mi sono messa in gioco perché io penso che una donna non si deve mai fermare. Premiate anche la 49enne Tindara Rappazzo di Barcello a Pozzo di Gotto, la 38enne Ileana Muntean di Siracusa e la 44enne Orlandina Rosi Toscano. La soddisfazione più grande è partecipare prima di tutto, ma una volta che sei in gioco, chiamiamolo così, essere la più votata aumenta la propria autostima. Mamma, mamma di due bellissimi ragazzi perché ormai sono grandi, uno di 16 anni e uno di 24 anni, lavoro, sono un'impiegata statale, lavoro nelle scuole come collaboratrice scolastica. È la prima volta che vengo qua, però mi piace, mi diverto. Ti sei trovata bene con questa agenzia? Sì, sono anche diplomata stilismo e moda, quindi per me è sempre un piacere, una esperienza diversa delle altre.